guardando la tv questo pomeriggio ho saputo che domani è la giornata contro il bullismo la giornata non mi è stata indifferente il bullismo quando un bambino subisce prepotenze da parte di uno o più compagni che gli dicono cose cattive parliamo di bullismo quando dei bambini o un solo bambino si divertono ad eridere sempre lo stesso bambino parliamo di bullismo queste cattiverie possono essere molto frequenti e la cosa fa molto male per chi la subisce non riesce a difendersi noi bambini abbiamo il compito di non essere indifferenti davanti a queste situazioni ogni volta che ci troviamo davanti a queste situazioni dobbiamo parlare con un adulto o con i nostri genitori se possiamo o dobbiamo essere d'aiuto a chiunque si trovi in questa situazione contro il bullismo l'unione fa la forza riusciremo a sconfiggere anche questa battaglia